perché purtroppo qui c'è troppa luce se serve faccio posto per il filmato però ho un'ultimissima domanda ho sentito, c'è un tizio che si chiama Riccardo Tammaro non so se conosce, si vive spesso sulle cascine che ha detto che dal Senegal si sono mostrati interessati al modello della cascina lombarda quindi ascoltando adesso quello che dicevate mi chiedevo, questo posto potrebbe e devo chiedere a voi che siete del Politecnico quindi siete quelli che hanno più collegamenti con l'estero essere promosso come luogo di studio per università straniere che magari americane o arabe o altrove che finanzino delle borse di studio e poi portano qualche soldino anche qui questo vorrebbe dire pensare che la cascina continui ad avere delle sue funzioni per la città e i locali siano destinati a ospitare magari anche degli studenti o dei ricercatori ciclaticamente per poter approfondire le domande se effettivamente la manteniamo così si diventa un modello ma prima ancora di arrivare a università straniere che stanno facendo questo modello se noi riusciamo a crearlo c'era l'idea di usare le cascine come sede delle rappresentanze degli stati delle rappresentanze degli stati che arrivano ad Expo poi è un po' sfumata sì, devo dire che Expo si è mossa tanto dopo si è rallentato comunque sicuramente si riesce almeno ad arrivare a un livello di comunicazione qui ci sarà la messa in sicurezza quindi sarà accessibile, visibile anche quello che è il collegamento con il parco con la sua agricoltura attraverso anche la via d'acqua questo è un notevole risultato perché è una bellissima vetrina che noi mostriamo perché vi confesso l'interesse degli stranieri nei confronti del parco agricolo sud e delle cascine lombarde è altissimo noi facciamo parte di un progetto europeo sull'agricoltura urbana e non vedono l'ora di poter venire e conoscere quali sono anche gli accordi tra pubblico e privato per la gestione di queste cascine quindi rappresentiamo un interesse vero e proprio noi faremo sicuramente qui il meeting nel 2015 quando gli studiosi verranno e poi non vieno con gli ESPO e quindi una tappa la faremo anche qui per mostrare che cos'era e che cosa può essere adesso il modello di agricoltura urbana per se lei sa un intervento di psicologisti come tutti li è fortunato visto che siamo in tanti si potrebbe spezzare in due perché è previsto anche che andiamo a vedere la marcita per vedere questo rapporto città-cascinacampo quindi le pietà di noi potrebbero andare verso la marcita grazie grazie